Onda, Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere, in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, organizza la quarta edizione dell'Open Week con l'obiettivo di promuovere l'informazione di servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. Nella settimana dall'11 al 18 aprile, attraverso gli oltre 190 ospedali premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito all'iniziativa, saranno offerti gratuitamente visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell'ambito della salute della donna. Stiamo cercando di far conoscere queste problematiche, queste malattie alle donne, perché poi la prevenzione serve alla guarigione. Se noi conosciamo, possiamo curare e possiamo guarire. Se voi conoscete, cioè se le pazienti conoscono, anche loro danno una mano appunto per arrivare a guarire la malattia. La sua unità sta lavorando a tempo pieno, forse è una delle unità che ha un'inversione di tendenza, anziché averla negativa, c'è la positiva, la migrazione. Sì, infatti noi siamo pieni pieni oberati di lavoro. Abbiamo il supporto delle nostre direzioni, la nostra direzione generale, la dott. Sacca Palbo, con tutto il gruppo, il direttore amministrativo, il dottor Dresci e il direttore sanitario, il dottor Berselli. Ci sostengono, ci stanno aiutando, però è un momento molto critico. Noi siamo pieni pieni di lavoro. L'area Vasta 1, con l'ospedale di Urbino, aderisce con due incontri aperti alla cittadinanza. Il primo tumore al seno, donne e medici si raccontano, è previsto per martedì 16 aprile 2019, dalle 17 alle 19. Il team senologico multidisciplinare dell'ospedale di Urbino, in collaborazione con le associazioni Valeria Onlus e le donne delle Contrade, si confronterà con la cittadinanza sull'argomento del tumore al seno. Il secondo, conoscere per prevenire, percorso di screening del carcinoma della cervice uterina, in programma per mercoledì 17 aprile 2019, dalle ore 9.30 alle ore 10.30, coordinato dall'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Urbino, diretto dal dottor Leone Condemi. Alle donne presenti all'evento sarà offerto un pub test gratuito se in possesso dei requisiti per l'inserimento nello screening, previa naturalmente prenotazione al numero delle ostetriche 0722 301115.